Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua in compagnia di... Daniel? No! Cosa? Mi ha detto ma schifo! Mi hanno obbligato! Non è vero! Ma no! I soldi dopo! Soldi! Cazzo vuoi? Ma non c'erano soldi! E oggi prepareremo il Tom Collins! Sì, sai che cos'è? Ok! Ok, è un drink con gin, fresh lemon juice, sugar syrup e soda! Ok! Ok, non ci sei? Sì! Conosci tutti questi... No! Ok, bene! Da che cosa partiamo? Scegli tu! Non lo so, sei tu che... Prova a prendere un a caso dall'alcol! Ti piace l'alcol? Mai 18 anni per bene! No, beh sì! Quindi non lo berrai tu questo? Sì, è una cosa! Di gin ce ne va due once, quindi... Prego! Stiamo di stop! Non sei capace da solo... Sosta! Come secondo ingrediente ci va il fresh lemon juice, un'oncia. Basta! Come terzo ingrediente il sugar syrup, mezza oncia, quindi metà di questo. Prego! Mettiamo un ghiaccio, Neltin. Chiudiamo. E sciacchela. E non è un martello! Blocca! Stai rovesciando tutto, girano! Magari! Un dito dove c'è la chiusura, e lo bacio sull'acqua. Gli ammettiamo di nuovo il ghiaccio, strainer, e con lo strainer andiamo a versare il contenuto del team dentro il bicchiere. Così, persa. Una volta fatto questo, c'è un top di soffeda. Ok. Mettiamo la guarnizione, per una festa di limone. Il bicchiere. Due cannucce. Due. 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 bevete per quanto non mi piace il limone comunque ormai è scontata quello che beve quello che beve no comunque la pagina instagram qui cioè voi non lo state vedendo ma sta strisciando per terra per arrivare dietro la telecamera vi lascio la sua pagina instagram e anche il canale perché se un pro player e quindi gioca a fortale rainbow six vabbè andate a seguirlo è bravo a giocare e vi lascio anche la mia pagina instagram andate a seguirmi lasciate mi piace e commentate e attivate accanto quello per il canale youtube vabbè in ogni caso e si vede che tu sei più youtuber due vuoi anche se posso attivare le notifiche dovete attivare le notifiche seguirlo mettere mi piace questo video oppure oppure non mi piace se non mi piace e se ci sta sulle palle siamo in google ciao e questo video è giunto al termine ci rivediamo al prossimo video e ciao iscriviti al canale iscriviti al canale